Ciao, sono Ghetano Colavita e sono l'amministratore di Apulio Hotel, la prima catena alberghiera del sud. E se sei atterrato su questa pagina, probabilmente hai l'interesse a sapere come funziona il bonus vacanza. Bene, sono qui per spiegarlo. Seguilo fino alla fine perché ho una sorpresa per te. Prima di tutto capiamo che cos'è il buono vacanza e poi chi e come richiederlo. In parole semplici è un vero e proprio sconto che potrai ricevere sulla tua vacanza. Non è un giochino o un erzicopo, è un vero e proprio sconto. Attenzione però, questo bonus potrà essere utilizzato solo prenotando direttamente presso le strutture alberghiere. Non potrai utilizzarlo sui vari portali come Booking, Expedia, Airbnb e altro. Ricorda, solo prenotando direttamente presso le strutture turistiche. Ma a quando ammonta questo sconto, questo incentivo statale? Secondo le linee guida del governo, lo sconto massimo è di circa 500 euro, di cui 400 euro te li scontiamo noi. E 100 euro li potrai portare in detrazione sulla tua futura dichiarazione di reddito. Vuoi sapere come riceverlo? Possono accedere a questa agevolazione tutte le famiglie con un ISEE di meno di 40.000 euro. Ma veniamo ora alla nostra sorpresa. Non dovrai impazzire in ricerche, CAF, INPS, eccetera. Ti aiutiamo e ti guidiamo noi. Ti seguiremo passo passo. Ti diremo la procedura esatta per avere questa agevolazione. Tu dovrai soltanto prenotare la tua vacanza in Abruzzo, Puglia o Calabria. Al resto ci pensiamo. Ti resterà da fare solo una cosa. Accedere a tutte le nostre migliori offerte. Richiede il tuo bonus vacanza. Inserisci la tua mail. Ora.